Per quanto riguarda le novità inerenti al nuovo motorhome di casa Mobilvetta, entriamo nello specifico, cerchiamo di capirne di più. Stiamo parlando del K880, una novità assoluta per casa Mobilvetta, ma direi anche per quanto riguarda il mercato europeo, perché anche se è un déjà vu, cioè una pianta molto in voga negli anni 80-90, parlo della dinette posteriore ad Elle, che offre un living grandissimo, molto sfruttabile per le coppie che vogliono avere ospiti all'interno del loro camper e goderselo al 100%. La particolarità appunto di questo veicolo è che innanzitutto è un veicolo che ha 6,99 metri di lunghezza, quindi un veicolo da dimensioni contenute con tutti i vantaggi che comporta la lunghezza del 6,99, quindi della possibilità di viaggiare in terza corsia, nella corsia di sorpassa, appunto il limite di velocità, quello automobilistico, ma la cosa principale che differenzia comunque Mobilvetta da quelle pochissime proposte che sono sul mercato con una dinette simile è il letto posteriore basculante elettrico che scende pronto praticamente sulla dinette posteriore, la quale non va assolutamente toccata, non viene disfatta. Sempre parlando di Mobilvetta per quanto riguarda lo stivaggio e tutte le altre dotazioni, che cosa c'è di nuovo? Vorrei ricordare innanzitutto che Mobilvetta propone veicoli chiave in mano completi di accessori, full optional, il nostro motto è tutto compreso, Mobilvetta, prezzo chiaro, Mobilvetta. Il cliente quando si fa fare preventivo oppure listine esposte al pubblico non hanno i pacchetti che normalmente la concorrenza usa per poter avere un prezzo d'attacco più favorevole. Il Mobilvetta tecnicamente nella parte Fiat ha la dotazione massima Fiat, quella che comprende l'ABS, l'SR, il Traction Plus, il Spin 9 e via dicendo, l'apertura e chiusura delle porte centralizzate usando il comando Fiat a distanza. Per quanto riguarda l'illuminazione vorrei, mi permetto di ricordare che Mobilvetta è stata la prima nel 2009 ad adottare l'illuminazione totale del veicolo 100% LED, quindi non abbiamo fatto altro che ribadire, ampliare il posizionamento dell'illuminazione all'interno. La cosa più importante per quello che riguarda la gamma di quest'anno specificamente per l'illuminazione è la possibilità di dimmerare, cioè di regolare l'intensità delle luci all'interno del veicolo, visto che i veicoli sono veramente dotati di molti punti luce.